Sverzata proteica, è ora di andare A come B come C come D come E come F come G come E poi facciamo un nodo gas ad amante Formare un occhiello dalla parte più lunga della cima e infilare la parte corta della cima nell'occhiello Ho appena fatto far passare la parte infilata sotto la cima e infilare la cima nell'occhiello H come Ho lasciato un cavallo a circa 200 metri da quella parte I come L come La domanda è Sarà affamato M come N come Niente Pantere In Nigeria O come Odio i serpenti P come Pezzi di carne Q come Quello è il fondo del canyon R come Rifiuti S come Sì Un leone T come U come V come Vuoi uccidermi? Z come La zattera ha retto bene Oppure come zero scuse per non iscriversi al canale Infine La lettera bonus O eccomè Fatto